Salve a tutti ragazzi, qui è Joseph Gamer e bentornati su Xenoverse 2. Gogeta o Vegito, qual è la fusione più potente di Dragon Ball? Ne andremo a parlare nel video di oggi, tenendo ovviamente in considerazione le parole di Akira Toriyama, il creatore di Dragon Ball, che a quanto pare in un'intervista ha dichiarato che le due fusioni sono di pari livello, quindi hanno lo stesso potere. Ma è davvero così? Ne siamo pienamente sicuri? Ne andremo a parlare in questo video, ricordandovi che io ne avevo già parlato nel 2016, quindi ben due anni fa. Voglio riprendere l'argomento, visto che ora se ne sta parlando tantissimo e soprattutto in tanti me lo stanno continuando a chiedere praticamente su ogni piattaforma, che sia, non so, Instagram, YouTube, e capire se quello che ha detto Akira Toriyama è vero fino in fondo oppure, essendo lui il creatore di Dragon Ball, dobbiamo credergli a prescindere. Vediamo un po', facciamo una missione parallela e poi ne andiamo a discutere. Partiamo da un primissimo presupposto molto importante quanto scontato. Quello che dice Akira Toriyama dovrebbe essere legge, quindi noi diamo per buono ovviamente quello che dice, cioè che le due fusioni sono di pari livello, non ce n'è una che batte l'altra, e lo accettiamo. Va bene così, ma nulla e nessuno in alcun modo ci vieta di parlarne, di discuterne e anche di dubitare di quello che ha detto. Ragazzi, siamo dei fan, ci sta che ne discutiamo. Quindi non è che questa frase chiude a prescindere qualunque discussione, poiché per quanto Akira Toriyama sia il creatore, a volte, non so, ho l'impressione come se dia delle affermazioni un po' per togliersi il problema. Mettiamola così, parliamoci chiaro. Anche perché l'affermazione che ha fatto, adesso non ce l'ho sotto mano nello specifico, ma dice che entrambe le fusioni sono due carte dello stesso potere. Una roba di questo tipo, però tendenzialmente non c'è dietro tutto un discorso da parte sua, ma solo delle brevissime, piccole parole che, sì, danno delle conferme, ma che poi lasciano spazio comunque a delle vere e proprie discussioni. Ne avevamo parlato già nel 2016, ripeto, però oggi, ormai a fine 2018, voglio riprendere questa discussione con voi in virtù proprio di questi avvenimenti e delle dichiarazioni di Akira Toriyama. Partiamo subito dalle differenze sostanziali tra le due fusioni. Suppongo che un po' tutti le conosciamo. La fusione, come ad esempio quella di Gogeta, è fatta con la danza di Metamor, quindi tramite una danza, tramite il ballo che tutti conosciamo, dura circa 30 minuti, poi può durare di meno se l'energia utilizzata dal combattente è eccessiva. E cosa fondamentale, i due combattenti devono avere nel complesso aura simile, potere simile, statura simile, quindi i due combattenti devono essere simili su quasi tutti i punti di vista. Cosa che invece è completamente differente per quanto riguarda la fusione con gli orecchini Potara. I due combattenti possono essere completamente diversi, non devono essere per forza, che ne so, due maschi, e in ogni caso possono avere anche potere e statura completamente differenti. Quindi è una fusione che non ha quasi alcun tipo di limite. E c'è poi da dire una cosa fondamentale. Nello specifico, se la fusione è fatta tra due Kaioshin, oppure un Kaioshin e un combattente qualunque, la fusione è eterna. Nel caso in cui è fatta da due mortali, o in generale tra due divinità, se non sbaglio che non siano Kaioshin, la fusione termina. Generalmente dovrebbe terminare entro un'ora, più o meno. Vabbè, poi quelli sono dati che mi pare di preciso non abbiamo, però quello che sappiamo è che prima o poi finisce. Lo abbiamo visto poi, ecco, nello specifico, proprio in Dragon Ball Super. Inizialmente io pensavo che questa fusione fosse eterna per tutti i combattenti che si fondono. A quanto pare con Super ormai da qualche anno hanno cambiato le carte in regola. Però, vabbè, andiamo avanti questo discorso. Quindi conosciamo le differenze tra le due fusioni, però c'è una cosa molto importante da dire. Partiamo da dei dati che abbiamo dal 1995, tramite la rivista Weekly Shonen Jump, che è una rivista, cioè, praticamente importantissima in Giappone, suppongo che la conosciamo tutti. Ecco, nel 1995 ha chiarito, forse un minimo, qualcosa riguardo le due fusioni. Ma davvero un minimo. Infatti ci dice che la fusione con la danza di Meta, Morgogeta, è molto potente ed è davvero ottimale per scontri molto brevi. Forse perché proprio, ecco, ha una... non so, un potere di alto livello. Per quanto riguarda, invece, Vegito, il nostro Veggeku, che noi chiamiamo ovviamente Giovanni, in pratica è una fusione che forse è molto più adatta a scontri più lunghi, magari più tecnici e cose di questo tipo. Però, alla fine, anche la rivista non ci dà delle informazioni concrete, precise, reali, per farci capire quale delle due fusioni è la più potente. Partiamo però da un presupposto, o meglio, da un dato di fatto che abbiamo da Dragon Ball Z. In pratica, ragazzi, abbiamo dei dati fondamentali da Dragon Ball Z. Quindi il tutto accade nel corso della saga di Majin Buu, nello scontro tra Super Buu, quando ha assorbito il potentissimo Gohan Supremo, e Goku e Vegeta, che quindi fanno la fusione con gli orecchini Potara, in quel frangente, no? Prima che i due facciano la fusione, c'è Super Buu che dice una frase fondamentale, forse decisiva per la nostra discussione, ovvero che se anche Goku e Vegeta si fossero fusi, in alcun modo sarebbero riusciti a batterlo. La fusione di cui parlava Super Buu, ovviamente, era quella della danza di Metamor. Ma quando poi Goku e Vegeta fanno la fusione con gli orecchini Potara, riescono, senza alcun problema, a mettere in seria difficoltà, e tra virgolette, mettiamolo sempre tra virgolette, a battere Super Buu. Quindi, amici miei, ciò ci fa comprendere che, tramite un ragionamento davvero semplicissimo, e forse anche frettoloso, probabile, Vegito, Vegeku, Veghet, Veghet, chiamatelo come volete, dovrebbe essere un bel po' più potente rispetto a Gogeta. A Chi la togliamo, però, ripeto, ci dice che i due hanno potere praticamente identico, però è da valutare in base a che cosa lui ha fatto questa affermazione. In base ad eventuali ricordi che ha di Vegito Blu, che abbiamo visto in Dragon Ball Super, perché il Vegito Blu, che abbiamo visto in Dragon Ball Super, nello scontro con Merge e Zamasu, magari può avere lo stesso livello di potenza che ha, adesso, Gogeta Super Saiyan Blu, che vedremo nel film di Broly a dicembre, che noi in Italia vedremo ovviamente a febbraio. Ma c'è un problema. Nel corso del tempo, rispetto a Vegito Blu, che abbiamo visto nella saga di Black Goku e di Zamasu, il potere di Goku e Vegeta è cresciuto e di conseguenza il Gogeta che otteniamo nel film contro Broly è molto più potente. Cerco di spiegarmi meglio. Vegito Blu ha un certo potere e lo abbiamo visto nel corso della battaglia con Merge e Zamasu. È normale che Gogeta contro Broly, che è post-torneo del potere, o dovrebbe essere post-torneo del potere, sia molto più potente, perché Goku e Vegeta hanno fatto degli scontri assurdi nel torneo del potere, si sono allenati poi di più, hanno fatto delle battaglie che li hanno fatti crescere a livello di potenza, ed è ovvio che Gogeta Super Saiyan Blu, quello che vediamo contro Broly, sia più forte rispetto al... 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 Vegito Blu che abbiamo visto contro Merge e Zamasu. Quindi bisogna fare un confronto nello stesso istante tra le due fusioni, a livello di pari potenza di Goku e Vegeta. Quindi facciamo che nello stesso istante Goku e Vegeta fanno la fusione con la danza di Metamor. Nello stesso istante, se Goku e Vegeta fanno la fusione con gli orecchini Potara, a mio parere, tendenzialmente, dovrebbero essere un bel po' più potenti. Questa cosa, in ogni caso, viene smentita da Akira Toriyama, l'abbiamo messo come presupposto iniziale, come presupposto in mezzo, e lo mettiamo come presupposto anche finale, come giusto che sia. Però, ragazzi, secondo me, l'affermazione da parte di Akira Toriyama è stata fatta esclusivamente per risolvere una problematica che da anni ormai affliggeva tanti fan di Dragon Ball. Affliggeva, per modo di dire, la vita continua lo stesso. Però, ecco, forse è stata fatta anche con un po' di leggerezza in più, da parte di Akira Toriyama, che vi ricordo essere un grandissimo maestro. Ragazzi, Akira Toriyama è un idolo per me. Però, non dimentichiamoci assolutamente che in passato comunque ha fatto degli errori un po' piccolini per quanto riguarda Dragon Ball Z, piccoli o grandi che siano, e poi in passato si era dimenticato anche di qualche personaggio tipo Broly, per il quale aveva curato, se non sbaglio, solo il lato estetico. Quindi, capite, ragazzi, di cosa sto parlando e a cosa mi riferisco. Akira Toriyama magari su qualcosa potrebbe avere delle dimenticanze, perdere qualche colpo. Quindi, non so, lui ci ha fatto questa affermazione. Io voglio crederci, però, nel mio cuore, mi faccio comunque delle valutazioni e cerco di capire tra i due chi è davvero il più potente. Quindi, tra Vegito, Super Saiyan Blue, e Gogeta, Super Saiyan Blue, secondo me, uno dei due la può spuntare. però, per Akira Toriyama non è così, quindi, la prendiamo per buona come affermazione, dai, però, se non vogliamo rifletterci troppo, mettiamola così, però, se proprio vogliamo discuterne e parlarne, secondo me, ci sono delle differenze tra questi due combattenti. Poi, è chiaro, ognuno la può pensare come vuole. Io spero solo una cosa, ragazzi, che in questo video io sia riuscito a spiegarmi per bene, perché so di essere stato forse molto confusionario, questo perché c'erano un po' di cose di cui parlare, poi, non è un argomento facilissimo da trattare per i fan di Dragon Ball, quindi, mi rendo conto che poi ci sono anche tante persone che a prescindere non prenderanno bene questo discorso, però, ragazzi, siate un po', mi riferisco a Costoro, siate un po' più aperti a livello di mentalità, non date subito tutto per buono, cioè, sì, l'ha detto Akira Toriyama, va benissimo, però, ne possiamo comunque discutere, è troppo comodo, facile, da parte di una mente pigra, dire, no, vabbè, l'ha detto lui, quindi che ci penso a fare, no, mettete comunque in dubbio qualsiasi cosa, rifletteteci, e traete le vostre conclusioni, quindi, ecco, proprio per questo motivo, in tema, diciamo anche un'altra cosa, fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti, magari posso sbagliarmi e mi potete dire, Joseph, guarda, io te lo spiego, il mio pensiero, e ti dimostrerà che non è così, quindi, mi piacerebbe vedere una bella discussione qua sotto nei commenti, e ci tengo a dirvi che non ha senso discutere in maniera accesa, litigare, per una cosa di questo tipo, è Dragon Ball, discutiamone in maniera davvero serena, tranquilla, qui sotto nei commenti, anzi, divertiamoci, cerchiamo di capire un po' qual è la situazione, e così via, vado con una Kamehameha finale che non viene interrotta, pensavo venisse interrotta, ma Gogeta non ce l'ha interrotta, quindi, questo è quello che avevo da dirvi, ora tocca un attimino a voi, spero di aver dato, come dire, delle buone indicazioni su cosa basarsi, per capire se uno è più forte oppure no, però, potrei sbagliarmi, potrebbero esserci delle cose che ho valutato male, e, ovviamente, evitate gli insulti, perché, in quel caso, sono costretto a bannare, nessuna cosa, come dire, permette, l'insulto di un'altra persona, che sia io o qualsiasi altro utente, anzi, è bello discutere in maniera pacata, tranquilla, leggera, e questo è il bello, che ognuno può dire la sua, e di conseguenza, non so, spiegare, in generale, il proprio pensiero, quindi, noi qua abbiamo vinto con Vegito Blu, però, tendenzialmente, anche in questo caso, Vegito Blu, è più potente di Gogeta Super Saiyan, dovrebbero essere al pari livello, e le due fusioni, dovrebbero avvenire nello stesso istante, e poi scontrarsi, quindi, alla fine di tutto sto discorso, che è stato forse un po' complicato, qual è il vostro parere? Scrivetemelo, qui sotto, nei commenti. Iscrivetevi ora, al mio canale, cliccando qui al centro, guardate altri video, cliccando qui, a destra e sinistra, quindi alla prossima, ciao! Ciao!